Decisivo con Trieste con 13 punti, fra cui 10 nel momento più importante della partita. Marco Bellinelli che ha dichiarato in settimana di voler tornare in nazionale dopo l'assenza di quest'anno europeo. Carvel Enderson è un grande realizzatore. Rimbalzo per Xavier Johnson, palleggio di Carvel Enderson, chiamato a portar palla adesso. E' preso in consegno da Bellinelli, Enderson lo attacca, lo batte, va ferro a segnare per il meno 8. Bellinelli difesa in questo momento della sua carriera, non è un giocatore determinante. Ha di fronte Bellinelli, vuole l'isolamento con il numero 3 della Virtus, show DJT sul blocco di Smith. Enderson lo attacca, si prende il tiro, lo segna! Carvel Enderson, meno 2 Verona. Altro pick roll con Smith, questa volta c'è lo show DJT. Rosselli può attaccare a spazio, scarica Johnson, mette palla per terra sul closeout di Ojelei, poi arma la mano di Enderson!